La Epicasa Brindisi nell'ultima giornata di regular season, con i biancazzurri di coach Vitucci che asfaltano la palacanestro Trieste 92-70, conquistano la settima posizione per la griglia playoff e condannano alla retrocessione la formazione giuliana. Una gara a senso unico con Brindisi che consente qualcosa agli ospiti solo nella prima frazione, ma la New Basket è sempre padrona del campo. Grazie alle giocate di Perkins ed Harrison, 15 punti in due la prima sirena, l'Epicasa chiude sul più 5 la frazione 26-21. Per i Giuliani e Bartley a inventare canestri col supporto di Lever, la musica non cambia di molto con i padroni di casa che toccano il più 12 di vantaggio. Nonostante un time-out di coach Legovic per bloccare il ritmo di Brindisi, Trieste fa vedere qualcosa di buono, ma Ridva in striscia positiva al tiro e la pausa lunga sono 11 punti di ritardo per gli ospiti, Epicasa 51, palacanestro Trieste 40. Nella ripresa basta poco a mascole e compagni per dettare la legge del più forte, la squadra di Marco Legovic va nel pallone consentendo alla New Basket di scrivere al trentesimo il massimo vantaggio 70-53. La gara è tutta in discesa per i pugliesi nell'ultima frazione con i biancorossi che provano a sprazia a recuperare qualche punto, ma la differenza tecnica è troppa. Mezzanotte si fa notare con alcune triple, poi Lem continua quello che aveva iniziato nel secondo tempino e dopo andrà a quarto sono già 24 i punti di differenza. Ad un minuto e mezzo dal termine c'è spazio anche per Boceschi e Vitucci, il figlio del tecnico biancazzurro, che però non vanno a segno. Al suono della sirena, abbraccio tra squadre e tifosi per il traguardo raggiunto, sabato è già play-off con gara 1 dei quarti di finale, Epicasa di scena a Bologna contro la Virtus, seconda classificata al termine della regular season, due partite in terra emiliana prima di trasferirsi nel Palapentassuglia per gara 3. Turno assolutamente non semplice per la compagine del presidente Rando Marino, ma la storia ci insegna che i play-off sono un campionato a parte e sognare per la tifoseria biancazzurra in questo momento non costa nulla.